La strada provinciale della Valle Seriana è rimasta chiusa al traffico ieri sera all'altezza di Gazzaniga per consentire le operazioni di collaudo del sovrappasso che collega Gazzaniga a Cene, demolito oltre quattro mesi e mezzo fa e ricostruito negli ultimi due mesi. A partire dalle 22.30 sul nuovo impalcato hanno sostato in progressione quattro autocarri carichi di sabbia del peso di 400 quintali ciascuno. I tecnici con il supporto di sofisticate abbrichature hanno registrato gli spostamenti e la pressione esercitata sulla struttura per verificarne la tenuta e la flessibilità. Le operazioni di collaudo hanno richiesto un paio d'ore durante le quali il traffico è stato deviato nel centro abitato di Gazzaniga. I dati registrati dovranno essere rielaborati ma si presume che il collaudo abbia avuto esito positivo. Ora si dovrà provvedere alla posa delle barriere e della segnaletica. Salvo imprevisti l'apertura del cavalcavia è prevista per giovedì.